Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sull'angolo di Saedori per il nuovo video giornaliero. Oggi parliamo di novità make-up. Sapete che ogni tanto mi piace aggiornarvi su qualcosa che compro, su qualcosa che ricevo, su qualcosa che mi regalano le mie amiche, c'è qualcosa in questo video. Metterò anche qualcosa di skin care adesso che ci penso, per cui diciamo un insieme di cose del quale vi voglio parlare, magari vi chiedo anche dei feedback per futuri video e mi dite che cosa ne pensate, se la cosa vi può far piacere. Iniziamo col botto con due cose, mi stava cadendo, anzi tre cose, due di un brand e uno di un altro, una l'ho acquistata io, si tratta della Chocolate Gold di Too Faced. Ragazzi, Too Faced mi sta veramente tentando in una maniera incredibile, perché la nuova collezione è la Peaches and Cream, se non sbaglio la palettina, quella tutta matte, insomma. Cioè io ce l'ho qua e non credo che resisterò e la prenderò al 100%, perché non ce la posso fare. Comunque per ora ho preso questa, guardate, vi faccio vedere un'anteprima dei colori, mi piaceva veramente tanto, mi sono cadute le card, quelle che fanno di solito il look. Guardate il pack come è bello, secondo me è il più bello di quelli che ha fatto Too Faced, delle palettine così cioccolato, a dir la verità io ne ho soltanto, soltanto due. Ho la, questa qua, la Peachis, quindi non è di quelle cioccolatose, però insomma di quelle profumate, sì, e poi ho la Semi Sweet. Questa qua però è ancora più bella con questa colata gold, veramente molto bella e mi piace moltissimo anche il range di colori, perché finalmente sono riuscita un po' a discostarmi dai borgogna, insomma c'è qualche colore un po' diverso, c'è un verde, c'è questo fucsia molto acceso, insomma volevo farci un look, quindi un Get Ready With Me, cioè guardate questo oro qua, giallo, verde, insomma un po' di verde, cioè bellissimo, non vedo, ha un odore pazzesco, non vedo l'ora di farci, di farci un look, quindi se la cosa vi può far piacere, magari facciamo un Get Ready With Me, nel quale la metto, la metto alla prova. Stavo guardando ragazzi, che mi piace il make up che ho fatto, però io devo avere tipo la sindrome di Moira Orfei, perché inizio e dico no, no, basta, prendo il mascara, due passatine di mascara, un gloss e sono pronta. Vabbè dai, faccio le sopracciglia, faccio le sopracciglia, non ho la base, non ho fondotinta, ho soltanto un po' di correttore di Dior, che sta finendo, questo qua me l'aveva regalato una di voi, che ringrazio ancora tantissimo, perché è un correttore che ho adorato, e quindi veramente, se non fossi così piena di correttori, cioè io lo vorrei riprendere, ed è il numero 02, perché se lo stesse chiedendo è identico al mio colore, e quindi non mi fa assolutamente stacco. Volevo precisare che, siccome anche qualche altra volta qualcuno mi ha detto hai il fondo diverso dal collo, io non ho fondotinta oggi, però come vedete è un po' più rosato il mio video rispetto al mio collo, che è super giallo, per cui non ho proprio fondotinta, ho soltanto un po' di blush e un po' di correttore. Comunque, sto divagando, con la sindrome di Moira Orfai mi sono fatta prendere la mano, in realtà mi è stato regalato un fondotinta, siccome non ne ho abbastanza, la mia amica Francesca aveva dei soldi da buttare, riteneva di dovermi fare un regalo per ricambiare, secondo lei un favore che le ho fatto, ma non le ho fatto nessun favore, era una roba, quale cose che le amiche fanno che non sono favori, niente, lei mi ha fatto un regalino, vabbè, mi ha comperato due cosine, due cosine così, è passata da Essence e ha fatto la spesa, il Fenty Beauty di Rihanna, appunto, mi ha preso la colorazione 290, qua c'è di mezzo quella canarina, che vive alle Canarie, di Vittoria, che le ha consigliato appunto il colore giusto per me, perché io avevo provato il suo e mi andava bene, e aspettate che lo tiro fuori, eccolo qua, l'avrete visto in milioni di video, però avevo anche fatto un video nel quale ve lo faccio vedere indossato, però se vi fa piacere, magari il giorno in cui provo la Too Faced, ci abbiniamo questo, facciamo una faccia Too Faced Fenty Beauty, Allora, invece, l'altro prodotto è il Killawatt, il duo illuminante, insomma, bellissimo, composto da Ginger Bing e Moscow Mule, questi due colori che però, insomma, ve li devo far vedere perché meritano, e a me non fa impazzire questo, questa, come si dice, forma ottagonale, giusto, sì, è un ottagono, ma è neanche il pack così, però, insomma, il prodotto è veramente stupendo, vedete, uno è più sbrilluccicone, questo qua, che è il Moscow Mule, mentre il Ginger Bing, Bing, penso che si dica, è un po' più satinato, cioè, che siano belli, non c'è dubbio, ma, secondo me, più che illuminanti, sono proprio, sì, uno magari più illuminante, ma l'altro un po' più blush, beh, comunque, li proverò, e vi saprò dire che cosa ne penso, mi piacevano tantissimo perché li avevo visti nel video di Vittoria, e quindi adesso potrò provarli, niente, voi fatemi sempre sapere cosa ne pensate di un video nel quale magari mettiamo alla prova tutto sto ben di Dio. Veniamo al colore, stupendo, meraviglioso, bellissimo, che ho sulle labbra, che è di questo brand, Aveda, ieri sono stata alla inaugurazione del loro nuovo store, hanno aperto uno store, non so se voi vi ricordate dove era MAC, in Brera, in via Fiori Chiari 12, adesso c'è appunto il loro store, al posto di quello. È molto interessante, passateci, perché ha del personale veramente super gentile, e soprattutto hanno una macchinetta che si chiama appunto Scalp Camera, ed è praticamente una macchinetta che vi fa l'esame del cuoio capelluto, ingrandendolo di non so quante volte, vi fanno praticamente, ve la appoggiano qua, vi fanno una foto, poi ve la fanno vedere, ragazzi vi spaventate, perché vedete proprio la cute con i pori, i bulbi, i piliferi, dal quale escono proprio i capelli, e io ho scoperto di avere dei capelli molto folti, perché in ogni buchino addirittura venivano fuori da un solo buchino, tre o quattro capelli, quindi ero proprio contentissima, perché allora, cioè io all'inizio ho detto, mamma che schifo, ma perché, vi faccio l'impressione, perché sembra tipo un porcospino, no? Perché ve lo ingrandisce, cioè vedete proprio una foto ingranditissima, e lei mi ha detto, no ma guarda che buono che hai due o tre capelli dallo stesso bulbo pilifero, cioè è proprio ottimo, quindi io lì, allora poi sono stata contenta, e questa è la mia settimana, diciamo delle analisi, ho fatto la iMatch di Estée Lauder, per vedere il fondo più giusto per me appunto di Estée Lauder, che sapete che ho fatto anche il video, quindi se siete curiose, non solo potete andare da Estée Lauder in via Dante, a Milano, via Dante 7, se non sbaglio, e farvi fare anche voi la iMatch con la macchinetta, scoprite il numero di fondo preciso, ve lo fate applicare, avete anche 7 o 10, non me lo ricordo, ho 7 o 10, mi vedo i capelli piatti, ho 7 o 10 giorni di trattamento, gratuito di Double Wear, e beh, potete andare anche dopo in via Fiori Chiari, vi fate fare la scalp camera, e praticamente, se io qua non ce l'ho, non so dove l'ho posato, vi fanno proprio tutto il foglietto, con tutti i prodotti indicati, per il vostro tipo di capelli, a Veda praticamente, crede fortemente, nell'analisi del cuoio capelluto, perché i capelli lì nascono, e quindi se prima non capiamo, che tipo di cura dedicare, al cuoio capelluto, non avremo poi, la nascita, di un capello sano, sapete che, io sto abbastanza, in fissa con sta cosa, perché sto seguendo, da circa un mese e mezzo, il loro trattamento in vati, sapete che vi avevo detto, che mi sporcava, leggermente, i capelli, dovevo lavarli, più frequentemente, loro mi hanno, fortemente raccomandato, di fare due shampoo, dove il secondo, passaggio, quindi due passate di shampoo, anziché una, come facevo io, perché probabilmente, quella sensazione, di non perfetta pulizia, di lasciarmi un po' di sporco, è data, soprattutto da questo, di farla molto diluita, come già faccio, la seconda, appunto, ancora più diluita, e quindi, ci proverò, e vi farò sapere, ma, altra cosa, è praticamente, che nello store, potete trovare anche il make-up, il make-up, lo trovate anche nel sito online, ma è negli store, e tutti nei posti, diciamo, nei parrucchieri, che hanno i prodotti, sono usciti, appunto, dei rossetti, che sono, con una percentuale altissima, non ricordo, se tipo il 95% di derivazione naturale, molto, molto, molto morbido, quando lo mettete sulle labbra, però poi si, si fissa, non diventa completamente opaco, è quello che ho sulle labbra, è uno dei colori, però diventa, rimane satinato, e si fissa moltissimo, uno di quei super cremosi, un po' come quelli di Nabla, che a mio avviso, quando li mettete, dite un mio dio, sono stramorbidi, poi, si fissano abbastanza sulle labbra, mi sono stati regalati, due colori, è una matita, ma, ci sono disponibili, ben 23 colorazioni, più, un balsamo labbra, sono bellissime, a mio parere, perché, puntano tutte su colori, molto, belli, a mio gusto, quindi, comunque, sapete, tutta la gamma dei rossi, dei rosa, dei nude, e dei borgogna, non ci sono colori, strani, pazzi, sono tutti colori, molto, particolari, ma anche, molto portabili, quindi, non ci sono, che sono blu, verdi, quelle stranezze, un po' così, che, sinceramente, io non indosso, il pack, è bellissimo, a mio avviso, molto, molto, molto elegante, la linea, si chiama, Feed My Lips, e, i rossetti, costano 21,50 euro, mentre, le matite, costano 22, il pack, interno, dei rossetti, è super elegante, in questo, metallo, satinato, bellissimo, il colore, che porto io, si chiama, Goji, numero 20, e, è questo, lo trovo, veramente, bello, 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 ragazze, ma, vi devo avvisare, che, ha un profumo, molto persistente, di menta, quindi, quando lo mettete, si sente, veramente, tanto, cioè, si sente, proprio, subito, la menta, però, poi, una volta, che, lo indossate, non lo sentite, assolutamente più, l'altro colore, che, invece, ho, è il rose, Gikama, con la, i lunga, i, e poi, Kama, Gikama, non so che cosa voglia dire, cerchiamo di aprire, il rossetto già aperto, notate, continuavo a fare così, questo, è il colore, adesso, ve lo, ve lo swatcho, non vi ho swatchato l'altro, perché, appunto, lo, lo indosso, è un colore, è un colore nude, molto, molto delicato, che, non so quanto mi potrà stare bene, perché, è molto chiaro per me, però, è veramente molto bello, ho visto, poi, una sorta di, borgogno, no, non un borgogno, un fucsia, violaceo, molto bello, molto, molto bello, non mi ricordo il nome, e, come matita, invece, ho la Bayberry, che, è, appunto, un colore, molto, molto, nelle mie corde, lo sapete, eccole qua, le matite si presentano così, e, vi faccio subito vedere anche il colore, sembra una matita di quelle portabili, anche da sole, guardate, che colore, cioè, è inutile, io davanti a questi colori, perdo la testa, vedete che, il colore del rossetto è un po' satinato, eh, mentre, la matita rimane, abbastanza opaca, eh, sembra, morbida, di quelle da poterci fare tutte le labbra, ma, ovviamente, la proverò, vi farò sapere, magari, metterò alla prova, la matita labbra, quando faccio il, eh, come si dice, il get ready, con la Too Faced Palette, eh, Gold Chocolate, e il fondo Fenty Beauty, e anche il blush, illuminante, che dir si voglia, e, quindi, magari, metterò alla prova la matita, e vediamo se possiamo davvero applicare, applicarla su tutte le labbra. Ancora make up, ho ricevuto la Rimmel Red Instinct Collection, che è praticamente la collezione realizzata in collaborazione con Rita Ora, e, vi faccio vedere, qua dentro ci sono dei cuoricini, il vetro colorato, il rosso, eh, il pack è stupendo, eh, abbiamo il Wonderful Volume Mascara, nel pack, appunto, particolare, dedicato a questa collezione, rosso specchiato, stupendo, bellissimo, eh, io avevo già la sua, eh, diciamo, confezione, quella non in collaborazione, vedete, è identico, soltanto che il Wonderfully Real, classico, è più un rosso fucsia, mentre quello in collaborazione con Rita Ora, è, come dicono gli americani, Rita Ora, eh, appunto, rosso fiamma, e, quindi, insomma, il mascara era questo, e, invece, il rossetto, guardate che bello, trovo veramente molto glam, il pack, la colorazione si chiama, eh, 001 Tempt Me, ed è, appunto, un rosso tentazione, che vi vado a sguacciare, eccolo qua, stupendo, meraviglioso, molto, molto, molto bello, anche questo, me lo tengo qua, a portata di mano, in modo che, magari, al primo Get Ready With Me, lo proviamo sulle labbra, e, ultima, eh, cosa, sempre della collezione, è la palettina, una palettina, diciamo, proprio per fare uno smokey eyes, ovviamente, quindi, vado ad aprirla, a farvela, a farvela vedere, eh, volevo segnalarvi che i pennellini, ultimamente, vedete, hanno da una parte la classica spugnetta, che comunque per applicare i glitterati, è sempre valida, però dall'altra, hanno appunto il pennellino, così, magari, potete sfumare leggermente, eh, eh, i colori sono classici, proprio da smokey, vedete, grigio, nero, così, questo blu glitterato, è un po' di, di colori, diciamo, fumosi, e pian piano, sempre più chiari, quindi, una palette con il quale, si può realizzare, proprio il classico smokey eye, abbinato appunto, al rossetto super rosso, per un trucco, sì, glam, ma ultra classico, se vogliamo, insomma, qualcosa che, un po' tutte le donne amano, non esiste una donna che non, non ama, almeno, durante magari una serata, un'occasione particolare, indossare un rossetto rosso, è uno smokey, per quanto riguarda il trucco di oggi, l'ho realizzato, siccome magari me lo chiederete, con due prodotti, che mi fanno impazzire, di cui vi ho già parlato a lungo, in passato, e si tratta degli aquashade di Wicon, io non so se siano ancora in vendita, ignoro questa cosa, comunque ho messo questo qua all'inizio dell'occhio, che è il colore rosa perla, sì, mentre questo qua è il marrone, l'ho usato alla fine dell'occhio, siccome sono prodotti in crema, fatti vedete, tipo un lip gloss, si applicano veramente super facilmente, però dovete andare subito a lavorare la piega, se no vi fanno lo stacco tra, insomma, il punto in cui avete applicato, e quello in cui non avete giustamente applicato l'ombretto, si fissano, non li levate mai più nella vita, perché sono ultra resistenti, e perché vi parlo di questi due prodotti, che non sono, ecco li ho rimessi a posto, Beauty News, perché in realtà vi volevo far vedere la palettina, la custom palette, di Primark, che ragazze, non mi ricordo se ve l'avevo già fatta vedere, comunque l'avevo ricevuta, quando avevano fatto il press day, delle cosine di Primark, che sono fantastiche, ce ne sono veramente bellissime, peccato che io, la volta che sono andata, è Primark, per me piuttosto lontano, ad Arese, avevano devastato la zona, quindi non ho potuto comprare niente, questa però era la palettina, che mi ero customizzata, lì durante il press day, praticamente oggi ho messo questo colore, vedete, questo bel colore qua, satinato, marrone, eccolo, questo l'ho utilizzato, per sfumare all'angolo esterno, e da lì, insomma è partita la, Moira Orfei Style, guardate che colore, le trovo proprio veramente performanti, questi cialdine, credo che costino tipo un euro l'una, se non sbaglio, guardate, sono proprio carine, carine, se volete delle palettine, da, peraltro vi comprate la palettina, e poi sostituite le varie cialdine, magari se viaggiate, se ve le portate dietro, potete tac tac, comporla, come più vi aggrada, da portarvi dietro, magari sempre diversa, guardate anche questo, lo metterò, qua, vedete, cioè è proprio caruccia, ma bella bella, quindi niente, la sto utilizzando, con molto piacere, magari, ve la posso far vedere, anche all'opera, super volentieri, in un altro magari, make up low cost, se vi piacciono i make up low cost, magari una volta al mese, ne posso fare uno, così, vi faccio vedere all'opera, un po' di prodotti, quindi sia make up, magari, questa offenti beauty, Too Faced, che magari sono un po' brand, non dico tra costosi, ma insomma, effettivamente, anche io quando compro una di quelle palette, magari, tac, una al mese, e insomma, ci spendo un po' di soldini, con queste qua, invece, magari, si possono realizzare dei trucchi, più, così, più, più low cost, anzi, proprio low cost, e magari possono essere interessanti, comunque ragazze, niente, cioè, più guardo questo colore, che rimane un pochino satinato, più mi innamoro, cioè, è stupendo, così come anche la matita, bellissima, poi, ultime cose, fresco, 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 arrivato adesso, col corriere, mi è stato consegnato questo di Max Factor, guardate, mi hanno fabbricato, il fondotinta compatto, il fondotinta compatto Facefinity Compact Foundation, nella colorazione numero 03, che è un fondotinta compatto, che dice, dura tutto il giorno, quindi, con SPF 20, la colorazione mi sembra adatta al mio incarnato, forse leggermente rosata, ma, ripeto, va provata, io non so se la utilizzerò con la sua spugnettina, così, perché sono un po' allergica, probabilmente la utilizzerò con un pennello, tipo, insomma, di quelli miei di Real Techniques, il pack è veramente molto carino, poi, il fatto che me lo abbiano personalizzato, è veramente una cosa molto, molto bella, le mie iniziali qua sopra, insieme, c'era il Lipfinity Lip Color 24 ore, nel colore 110 Passionate, che è praticamente dato da due, prodotti, che sono, uno che dice, applica il colore sulle labbra, perfettamente pulite, non chiudere per un minuto, o fino a quando si sono asciugate completamente, e poi, al numero due, dice, applica il balsamo, per dar luce e mantenere le labbra idratate, ripeti l'applicazione durante la giornata, per avere un look sempre fresco, dice appunto che dura tantissime ore, e i prodotti sono questi due, questo quindi è il numero due, che vedete che è un stick per le labbra, appunto, per idratarle durante la giornata, mentre questo è, appunto, il prodotto con il numero 110 Passionate, che vi metto qua, Urca, un meraviglioso colore mattone, a mio avviso, se non sto sbagliando, sì, rosso mattone, veramente bello, ragazze, io se non sto dicendo una cavolata, questo prodotto lo acquistai, perché questo prodotto è, sicuramente è stato magari riformulato nel tempo, ma risale a un prodotto storico, diciamo, di Max Factor, adesso vado a vedere qua davanti, forse l'ho conservato, e qualche volta lo uso ancora, ecco qua, non ricordavo male, vedete, questo è il prodotto, il burro, praticamente, questo è la tinta, che peraltro, era molto bella, e dovrebbe essere ancora a posto, io non so se esiste ancora questo colore, ma bello, 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 adesso me lo ritiro fuori, e me lo riuso, era il numero, mi ricordo che era una di quelle, proprio tra le prime tinte labbra, rossetti liquidi, che rimanevano stain, che uscirono, ed era il numero 16, appunto, ve lo faccio vedere, adesso l'ho messo qua, eccolo qua, era un color, così, un color carne, un color nude, mi ha fatto, mi ha fatto specie ricordarlo, perché ce l'ho veramente, da tanto tempo, un altro, graditissimo omaggio, che ho ricevuto, arriva da, Bioficina Toscana, questa è la loro sacchetta, che riutilizzerò, io le uso per la valigia, questa di solito, per mettere la biancheria, e robe del genere, guardate che cosa, mi hanno mandato, è veramente bellissima, ho ricevuto questa box, che contiene, varie cosine, di Bioficina Toscana, io devo dire, che non ho avuto modo, di provare, se non, dei prodotti capelli, invece, mi hanno mandato, allora, la crema ricca, all'olivello spinoso, una crema ricca, di emollienti, tra cui, il pregiato olio, di olivello spinoso, toscano, bio, con notevoli proprietà, antiossidanti, protettive, restitutive, quindi, praticamente, è un prodotto, per pelli secche, mature, o per chi vuole, un'idratazione profonda, ama consistenze dense, e morbide, quindi, è praticamente, un trattamento, per il corpo, esattamente, eccola qua, crema all'olivello spinoso, io, ovviamente, utilizzerò questi prodotti, man mano, prodotti finiti, come sapete, e io vi dico, che cosa ne penso, il kit, invece, è incentrato, sulla cura del viso, e contiene, il latte tonico, bifasico, quindi, una lozione viso, struccante, e detergente, vedete, che è un bifasico, quindi, da agitare, per andare a rimuovere, appunto, il make-up, poi, una mousse, detergente, per cui, successivamente, allo struccaggio, degli occhi, del viso, anche se io, oltre al bifasico, utilizzo un prodotto, per il viso, ma ovviamente, utilizzerò, qualcos'altro, c'è la mousse, detergente, alla malva, delicata, con mucillagini, di malva bio, toscana, mi piace molto, sta cosa, che loro, peschino, diciamo, dal territorio, delle materie, per, insomma, sviluppare, i loro prodotti, dice, morbida mousse, dal tocco leggero, adatta all'uso quotidiano, con delicati, tensioattivi, di origine vegetale, proprietà emollienti, rinfrescanti, estratti, bio lenitivi, e protettivi, di passiflora, calendula, ed elicriso, effetto morbidezza, sulla pelle, che lascia liscia, e vellutata, quindi, è di quelle che, vedete, quando voi schiacciate, fa fuoriuscire direttamente, la mousse, quindi, questa ottima, come ultimo step, la sera, quando mi strucco, o primo step, la mattina, al risveglio, poi, per quanto riguarda, il viso, abbiamo uno scrub viso, ai frutti rossi, trattamento rigenerante, con effetto radiosità, in pratica, eccolo qui, è questo, questo credo che sia, una mini taglia, se non sbaglio, non ho, non ho idea, però, me la immagino più, più grossa, la taglia, comunque, potrò chiedere, alla mia amica Francesca, che è, dalla bioprofumeria, Timia, ma sapete, a Bergamo, che sicuramente, ha i prodotti, di biofficina toscana, e li conosce, bene, quindi, magari, mi faccio anche spiegare, lozione viso illuminante, con uccellagini, di malva bio toscana, quindi, comunque, coordinato, alla mousse detergente, con, per quanto riguarda, l'ingrediente base, è, appunto, un, fluido, attivatore, reidratante, rivitalizzante, della pelle, la prepara, ad assimilare meglio, i successivi trattamenti, quindi, diciamo, quello che noi, di solito, chiamiamo un siero, credo, no? ricca, di muccellagini di malva bio toscana, acido ialuronico, che ci piace sempre tanto, appeso molecolare differenziato, di aloe, bioliquefatto di buccia di pomodoro, anti-pollution, per un'azione idratante, lenitiva, restitutiva, protettiva, idrolato bio di fiori d'arancio, un bio liquefatto di verbasco, e l'estratto bio di limone, svolgono la funzione rigenerante ed illuminante, quindi questa era la lozione illuminante viso, che è da 60 ml, poi ancora il contorno occhi anti-age, in questo caso all'olivello spinoso bio toscano, eccolo qua, queste ritengo che siano tutte full size, appunto, così come il siero, perché sono ben 60 ml, anzi spesso qualche siero è 30 ragazzi, quindi è bello abbondante, un altro siero, questo qua è il siero viso anti-ossidante, di questi avevo sentito parlare tantissimo, perché mi ricordo che sono tre, se non sbaglio, tre differenti referenze, sempre con questo pack, con varie funzioni diverse, e questo è un siero dall'uso versatile, ricco di principi funzionali e anti-ossidanti, in concentrazioni importanti, sinergia tra i principi brevettati, Ulviox, Ulviox, Oleox, di materie prime bio toscane, acido ialuronico, bisabololo, e specifici estratti bio, che svolgono un'azione di difesa da radicali liberi, regalando alla pelle un aspetto più tonico e luminoso, quindi questo è un siero viso anti-ossidante, per pelli spente e mature, ora, spente sì, mature, no ragazzi, sappiamo tutti che io ho 26 anni, appena compiuti ovviamente, quindi c'è ancora insomma, tanto tempo prima che io possa definirmi matura, poi arriviamo alla crema gel viso alla malva, di 70, con uccellagini di malva bio toscana, quindi ancora un altro prodotto con la malva bio toscana, questi sono 50 ml, appunto è una crema gel fresca, leggera e delicata, quindi magari questa è perfetta con l'arrivo della bella stagione, quando c'è bisogno di una texture più leggera, più fresca, ideale per donare freschezza alla pelle per tutta la giornata, acido ialuronico, peso molecolare differenziato, in sinergia con le muccellagini di malva bio toscana, assicurano un effetto idratante e lenitivo, c'è anche l'estratto bio lenitivo di foglie di olivo, semi di lino, altea, girasole, odio di ricino, con proprietà idratanti e antiossidanti, quindi questo, è l'ultimo pezzo del kit, che si compone così, quindi io ritengo che forse questo kit, potrebbe essere venduto, così come si, me l'hanno regalato, cioè non credo che sia un kit, fatto per le blogger, penso proprio di no, anche perché aveva questa fascia, che si infilava appunto, vedete nella scatola, dove c'è scritto, i rituali per la tua bio routine, viso quotidiana, per una pelle compatta e luminosa, quindi secondo me questa è anche una bellissima idea regalo, se magari avete un compleanno, che so, della mamma, o di qualche amica cara, a cui volete fare veramente un regalo gradito, e poi per lo più magari, questa persona utilizza prodotti bio, bio con un buon inci, guardate quanto è bello il coperchio, quindi la scatola si presenta in questo modo, così, guardate bellissima rosa, con la sua fascia da mettere sopra, così, stupenda ragazzi, veramente molto molto bella, quindi grazie a Biofficina Toscana, ho gradito tantissimo, e utilizzerò senz'altro man mano i prodotti, e dirò anche il mio feedback in totale, diciamo, libertà, così come so che Biofficina Toscana gradi, ho sempre sentito parlare bene, anche da questo punto di vista, tiene molto conto delle opinioni, delle consumatrici, quindi per migliorarsi sempre, come dovrebbe essere sempre giusto fare, noi dobbiamo esprimere in maniera, diciamo, educata e corretta, le nostre idee, e i nostri appunti magari migliorativi al prodotto, non posso non ricordare quando ai tempi, proprio Biofficina cambiò il pack del suo famoso balsamo, perché la confezione, molte blog, insomma, fecero notare che era un po' scomoda nell'utilizzo, e la sostituì con un tubo molto più strizzabile, era il tubo del balsamo, mi ricordo aveva una confezione rigida, tipo metallica, se non sto dicendo una cavolata, ma se sbaglio, correggetemi, o voi ragazzi di Biofficina, o chiunque si ricordi, e Biofficina cambiò il pack, con un pack più strizzabile, più pratico, che quindi, insomma, permetteva il totale, utilizzando il prodotto, anche magari andando a tagliare il pack, cosa che io faccio sempre, perché, se no, si spreca un sacco di prodotto, quindi, grazie, e continuate così, perché, tenendo conto dei feedback che vi arrivano, sarete sempre migliori, e vi migliorerete ancora di più. Io vi ringrazio, ragazzi, per aver visto il mio video, per avermi tenuto compagnia, e io vi tengo compagnia, ma voi mi tenete compagnia, è uno scambio, assolutamente reciproco, quindi, vi do appuntamento a domani, per un nuovo video, tutte le vostre idee, per i video, sono sempre ben accette, colgo l'occasione, per ringraziare la ragazza, che mi aveva, suggerito il make up, tutto lo cost, che ho fatto ieri, e che è piaciuto tantissimo, e quindi, io mi leggo sempre tutti i commenti, anche se non faccio in tempo, magari a rispondere a tutti, non ce n'è mai uno che io non legga, e i vostri suggerimenti, li tengo sempre in conto, veramente, mi sono molto utili, e grazie anche alla ragazza, che mi ha consigliato, di utilizzare le gonne di tulle, con un maglione oversize, sopra, perché l'ho fatto, e sta da dio, ancor meglio, di come le avevo abbinate io, quindi, grazie, perché, credo, che, nel mio canale, almeno io, ritrovo, e vedo, che continuo ad esserci, quello spirito di condivisione, di scambio, di consiglio, che, diciamo, c'era agli albori di YouTube, e questo è merito, sicuramente, magari anche mio, che cerco di dare dei contenuti, per quanto frivoli, si parla di make up, si parla, a volte, qualcosa di più, di più serio, come l'alimentazione, il fitness, eccetera, ma comunque, stiamo sempre in leggerezza, e quindi, sicuramente, un po' di merito, me lo voglio prendere, ma, è tanto anche merito vostro, che avete sempre uno scambio gentile, ed educato, è propositivo, nei miei confronti, basta, vi ho fatto tanti complimenti, spero che, vi faccia piacere, ma d'altronde, me ne fate tanti anche voi, e quindi, vi mando un bacio, e ci vediamo domani, ciao!